Sono oltre 200 i aretini finiti nell'ultimo anno nel vortice del gioco d'azzardo e seguiti attualmente dal CERDA. 390 invece milioni spesi nel 2018 nella provincia per gratte vinci, bingo scommesse e lotterie istantanee, numeri che parlano di un fenomeno tristemente presente nella realtà aretina, un problema che riguarda anche le fasce d'età più giovani. Il 10% delle persone prese in carico dal servizio sanitario, infatti a meno di 24 anni. In provincia d'Arezzo, come in tutta Italia, i giovani rispondono a un invito a giocare che tutta l'industria del gioco sta muovendo loro. Lo fanno iniziando più spesso da un gaming che non è legato di per sé all'azzardo, ma abbastanza presto, intorno a delle piccole vincite, loro, come poi tutti noi, sono irretiti dalla possibilità di vincere facile. In questo modo però succede che con l'illusione di aumentando un pochino il giocato sia più facile ancora aumentare la loro disponibilità e la disponibilità di denaro e vanno incontro però alle prime perdite che cominciano a inseguire piano piano indebitandosi sempre di più. Ed è proprio ai giovanissimi che ha rivolto il progetto che vuole spiegare in modo semplice e divertente cos'è la ludopatia, smontando luoghi comuni attraverso la matematica. Si tratta di cinque conferenze interattive talk dedicate a mille studenti delle scuole superiori a retine. Bisogna sempre richiamare il protagonismo dei nostri studenti, cioè la conferenza tradizionale in cui viene propinata magari una lezione frontale, i nostri ragazzi magari si annoiano, mentre quando c'è naturalmente una modalità più vivace in cui loro interagiscono, fanno domande, si usa un loro linguaggio, sicuramente fa più presa sulle loro coscienze. In un'ora e mezzo verranno così smontate le più diffuse credenze sul gioco d'azzardo. Ci sarà proprio una simulazione di giochi lesciti, i ragazzi si renderanno conto che cosa vuol dire il pensiero magico che sviluppa il gioco d'azzardo, gli errori cognitivi e le credenze erronee che li portano a giocare.